Perché comunque ha dato una visione del comparto ortofrutticolo a 360 gradi, da quella che è un po' la componente produttiva fino alla commercializzazione, quindi tutta la filiera. Con dei passaggi che è anche interessante, che hanno visto un approfondimento sul tema delle acque, sul tema degli agrofarmaci, dei biostimolanti, il tema dell'internazionalizzazione, quindi tutte tematiche che a tutto tondo riguardano la produzione ortofrutticola e quindi la competitività di questo comparto. L'attenzione all'ambiente, l'attenzione a tutta una serie di problematiche che non riguardano solo la componente commerciale, ma anche la componente più sociale, di sostenibilità, che deve riguardare non solo la redditività dell'azienda agricola, ma anche il cittadino, il consumatore, che deve essere visto non solo come consumatore della nostra frutta, ma come colui che apprezza l'impegno che il frutticoltore fa quotidianamente per la salvaguardia dell'ambiente. La maggior virtù, la sua biodiversità, la sua genialità tipica degli italiani. Il suo maggior peccato è che comunque in contemporanea di questa fiera c'era anche tutto food a Milano, che aggettivamente si poteva fare o prima o dopo per entrambi. Grazie